Un piccolo gesto per ricordare che la lotta contro la mafia la si fa come la faceva Giovanni. Il fondamento morale e giuridico della battaglia di Giovanni è importantissimo. E proprio per i giovani, Giovanni diceva sempre che la mafia si sarebbe vinta cambiando completamente la società attraverso un esercito di giovani educati alla legalità. E questo è quello che abbiamo fatto in questi anni. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie Presidente. Grazie a tutti.